Siamo arrivati al giro di Boa, giovedì, benvenuti, oggi team da tre, dove faremo in totale 20 minuti ARRAP, 150 metri di Farmers Carry, 75 oppure 50 calories di Assault Bite, altri 150 metri di Farmers Carry, 75 wall ball, 150 metri di Farmers Carry e chiuderemo con 12 legless rope climb. Carichi e tutto il resto, qua di fianco, buona fortuna con questo World, ci vediamo domani per il C per Roma.